Buongiorno a tutti, eccoci qui. Oggi ci guardiamo Bryas Comfort modello 2023. Cosa direte rispetto ai modelli precedenti, al modello 2022? Essenzialmente la meccanica del Volkswagen T6.1 150 cavalli che abbiamo ordinato per quest'anno con un'ottima dotazione di serie. Che comprende? La leggo per evitare di dimenticarmi qualcosa come al solito. Allora, i sedili anteriori regolabili in altezza con il supporto lombare, il cruise control adattivo, detto ACC in Volkswagen, i controlli elettronici di stabilità e un sacco di cose. Buongiorno, volante multifunzione in pelle, sbloccaggio portellone posteriore dall'interno, richiesta ai circhi acciaio da 17 con le ruote da 17 ovviamente e i freni e la ciclistica per i freni maggiorati da 17 pollici, fendi nebbia con funzione in curva, specchi ripiegabili elettricamente col telecomando della chiave o col pulsante, rilevatore di stanchezza, predisposizione VV Connect, ruota di scorta ovviamente, come su tutte le nostre macchine, sistema di controllo a pressione pneumatici, il pacchetto comfort dalle maniglie per salire agevolmente in macchina, radio da 8 pollici originale, che adesso andiamo a vedere, avrà anche, ho finito di leggere, avrà anche la retrocamera, la retrocamera, eccola qua, allora, la retrocamera funziona in questa maniera qui, sapete tutti come funziona la retrocamera, però, siccome non era inclusa in questo modello, adesso la vediamo, eccola qua, perfettamente, è sull'autoradio da 8 pollici originale, benissimo, ah, adesso vi faccio notare una cosa, qui io sono seduto al posto di guida, e posso guidare così, anche se, adesso passiamo all'interno del nostro Brias Comfort, anche se vedete che il letto è fatto, il letto è fatto, è completamente fatto, possiamo dormire, io sottolineo sempre questo, che possiamo, in Brias Comfort, lungo 4 metri e 90, possiamo dormire qua dietro, lo vedete, in un letto che, in questa posizione, così, con il sedile in assetto di guida, è 180 x 110 di larghezza, chiaro, se avviciniamo al volante, un attimino, il sedile tranquillamente da qua, e raddrizziamo questo, diventa 190 centimetri, per cui ci sto anch'io tranquillamente a dormire, benissimo, perché sottolineo la storia del dormire sotto, chiaramente si può dormire sempre anche sopra, abbassando questo letto, viene il solito letto che c'è in tutti i tetti a soffietto, ma la cosa importante è che, al freddo, oppuramente se si dorme in una piazza, in un, che ne so, all'autogrill, per fermarsi a fare una sosta, e cose di questo genere, è molto più pratico dormire, qui sotto, senza alzare il tetto a soffietto, questo normalmente, in tutti gli altri van di questo tipo, implica il fatto di girare i sedili anteriori, chiudere tutti i finestrini anteriori, con le isolazioni, con le ventose, tutte queste storie, che ci portano via tempo, poi è scocciante, così si può lasciare il letto sempre fatto, anche volendo, tranquillamente, viaggiare, fermarsi quando si vuole riposare, eccetera, eccetera, bene, questa è una chance, altrimenti, con una manina, trac, si rimette tutto a posto, ah, già che alziamo lo schienale, qua, vediamo che qui sotto, ci sono due cassetti, che escono davanti, lì dietro c'è, adesso vedremo, un attimo, che tolgo questi due cuscinetti laterali, alziamo la sbardellina, qui vediamo un altro posto, dove poter riporre delle cose, e vediamo anche l'inverter da 1500 watt, che ci consente di avere, un kilowatt e mezzo di corrente, da 230 volt, sempre presente in macchina, perché? abbiamo anche la batteria, a litio da 100 ampere, nel frattempo, spostiamo in qua il letto, eccolo qua, e, richiudendo dentro, questa sbardellina, otteniamo, un posto, qui, dietro, anche qui, possibile stivaggio, benissimo, lì sotto, c'è un boiler nautico, no, si chiama scambiatore di calore, che, con il calore del motore, ci permette di avere, 12 litri di acqua calda, sempre, sempre, e, fra virgolette, passatemela gratuitamente, visto che, altrimenti, il calore di eccesso del motore, sarebbe smaltito nell'ambiente, invece, così, ci serve anche a fare, 12 litri di acqua, calda a 70 gradi, benissimo, andiamo avanti, abbiamo visto la cucina a gas, abbiamo visto, un ampliamento, qui, del piano cucina, vediamo, qui sotto, c'è l'armadietto, per, la bomboletta del gas, la bombola a 3 kg del gas, per la cucina, soltanto, ovviamente, ed ecco qua, dei ripostigli, sotto la cucina, il riscaldamento, è il classico, vebasto, diesel, per cui, riscaldamento diesel, boiler, scambiatore di calore, batteri a litio da 100 ampere, anche maggiorabile a 150, e inverter da 1500 watt, passiamo alla parte posteriore, Dryas Comfort, sapete che si chiama Comfort, perché ha del Comfort, offre del Comfort, vale a dire, il WC, eccolo qua, WC da camper, normalissimo, WC da camper, con la cassetta, svuotabile, qui sopra c'è un armadietto, per ritorci delle cose, va bene, con i suoi ripiani, e qui un bel piano profondo, benissimo, qui, abbassando questa, scusate che devo chiudere i bottoncini, abbassando questa sbardella sopra il WC, ci si possono appoggiare delle cose, ecco qua, la doccia, il doccino, il doccino che si inserisce nella presa qui, e poi si apre, la doccia calda e fredda, la doccia si può fare o sopra questo piatto doccia, che ha il suo scarico e il suo serbatoio di acqua grigia dedicato, oppure qui fuori, voi sapete che normalmente si usa, si può mettere una tendina qui intorno, ci sono le tendine fatte per i Volkswagen apposta, e ci si può docciare anche fuori, comodamente, qui un posto per riporre delle cose, qui i serbatoi, acqua fresca, acqua grigia del lavandino, allora, il serbatoio dell'acqua fresca, se riusciamo ad alzare questo plastichino, difficilissimo da alzare, caspita, è un antifurto questo, non è più un plastichino, è un antifurtino, eccolo qua, difficilissimo, ma ce l'abbiamo fatta, ecco perché volevo estrarre il serbatoio, per spiegare una cosa, allora si può riempire, o facendo, o con la gomma, classica gomma dell'orto, dalla fontana, ok, ma se non aveste la gomma dell'orto, come è capitato a me, che mi dimentico sempre di portarmi queste cose, si può, aprendo questa cosa, questa ghiera, togliere questa cosa, questo gruppo qui, pompa eccetera, e andare direttamente alla fonte, o alla fontana, a riempire il serbatoio, benissimo, lo richiudiamo, antifurto qui, che non ce lo porti via qualcuno, e eccoci qua, abbiamo messo anche, eccola qua, questo è un optional, una tasca, dove ci stanno, due sedie da campeggio, che adesso non stiamo a togliere, perché sappiamo benissimo come sono fatte, questa tasca applicata sul portellone posteriore, tranquillamente, così non dà fastidio a nessuno, ma c'è, sempre pronta e disponibile, benissimo, allora, detto tutto ciò, sta sorgendo il sole, sui prediei dell'Alta Val di Non, www.autoroen.it, canale youtube, autoroen.it di Giuliano Pezzini, guardate che colori stamattina, telefono 340 718 3988, abbiamo ancora alcuni furgoni, disponibili da allestire, possiamo allestirli con l'interno, come avete visto, questo, bianco, o è bianco coi piani neri, ma ne faremo a brevissimo, subito uno, ne stiamo facendo, uno con l'interno, più legnetto, di Olmos biancato, anche molto bello, come l'ultimo che è stato consegnato, benissimo, questo è anche pronto per partire, per mille avventure, prezzo, prezzo da 75.900 euro, devo fare anch'io come gli altri, da 75.900, questo con il riscaldamento vebasto, WC, acqua calda, zanzariera, retrocamera, eccetera, tutto quello che vi ho raccontato, costa così come lo vedete, 86,850 euro, tutto qua. Grazie a tutti, ci vediamo in Fiera Parma, buona giornata, con Brians Comfort, da Giuliano, dell'Auto Roen, ciao.